Pronto? Sì, 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 sono io. Sì, sì. Esatto. Tutor del gruppo delle sesso dipendenti. Sì. Sì, sì. Sono, certo, sono già in aula. Ho appena finito di sistemare la videocamera per le riprese. Esatto. Sì. Scusi? Cosa? Mi cambiate di gruppo? Ma state scherzando? No, 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 non abbasso la voce, abbia pazienza. Mi cambiate... Ma io mi sono fatto un mazzo così per arrivare alle sesso dipendenti. E voi mi cambiate... Oh no, oh no, oh no. Bene, allora chi se l'è portato fino alla fine il gruppo dei coprofagi? Me lo spieghi, eh? Ecco, glielo auguro allora a lei di sentire l'alito di un coprofago, eh? E quei depressi, cronici, dei guardoni miopi, me li sono presi io dall'inizio alla fine. E gli spettatori di Uomini e Donne? Vogliamo parlare degli spettatori di Uomini e Donne? Ecco, non ne parliamo che è meglio, eh? No, non mi... Ma non mi prenda in giro che sono il più bravo. Ma, ma lei sta scherzando? Io sono il più pirla. Ecco che cosa sono. Il più pirla. Ma... Ma non si può! Gli egoisti anonimi, no? Gli egoisti anonimi, no? Gli egoisti anonimi, no? Grazie per la visione!